Via, 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 datti la mano, datti la spinta con le braccia, uno, bravo, due, tre, e riparti, bravo. Io oggi faccio io fratello di camera. Via, abbiamo ritmo, ritmo ragazzi, per la velocità. Due, tre, via, riparti. Dai, 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 tutto bene, veloce, su, doppio corpo, doppio corpo, dai, dai. Rallenta adesso, rallenta, bravo, e ora riparti. Rallenta adesso, vai, uno, due, tre, e via adesso. Veloce, veloce, veloce. Dai, dai, dai. Ok, uno. Che hai fatto? Uno, non ascoltare quello che ti viene detto. Mi secco per me, vai, no, no. Senti, ti hai dato un sacco di merda. Non io. Veloce. Senti, saldi, saldi, cosa. Dai, ti cuore. Senti, io, sono deguale, non mi faccio. Dai, dai, farò, non c'è, 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 non c'è. Dico io, quando c'è finito. Troppe, troppe, dai, tutti qua. Via. Bravo, bravo. Scusa le campine, dai, tutti qua.